salve a tutti youtubers filippo fiorenza qui e salva tutti youtubers il vostro filippo fiorenza qui con una nuova recensione facciamo partire il mese di luglio con un nuovo taglio di capelli e con una nuova recensione oggi parleremo del nuovissimo film escape plan l'ultima sfida ebbene sì terzo capitolo di una delle saghe forse in un certo senso meno conosciute di sylvester stallone per chi non lo conoscesse sylvester stallone interpreta ray blestin in questo terzo capitolo ritornerà di nuovo insieme alla sua banda di amichetti ovvero dave batista e 50 cent questa volta dovranno salvare dalle griffe del nuovissimo nemico di turno la figlia di un magnate della tecnologia proveniente da hong kong ebbene sì finalmente arriva in un certo senso in sordina rispetto ai primi due capitoli questo terzo e ultimo capitolo della saga dedicata appunto allo specialista ray film devo dire che si conferma essere bello dinamico non proprio fresco però in un certo senso capite un film che ha una un tipo di azione che mi è ricordato quello dei fine anni 80 inizi anni 90 quando sylvester stallone era forse al massimo della sua fama che devo dire in un certo senso mi è piaciuto forse un pelino di meno rispetto ai primi due capitoli ovviamente la trama è molto basilare molto classica non ha niente di che e per questo mi è ricordato molto una trama dei classici film d'azione anni 80 anni 90 però devo dire che mi è piaciuto un sylvester stallone veramente che nonostante l'età avanzata se non ricordo male ha più di 70 anni spero di averlo detto giusto sì devo dire che è sylvester stallone nel vero senso della parola nudo crudo sangue pugni cazzotti sangue sangue pugni cazzotti proiettili tanti proiettili l'ho detto cazzotti e pugni sì la coppia dei batista 50 cent come sempre ritorna dei batista secondo me almeno per me dovrebbe avere un stand alone escape plan sì beh ragazzi che dire spero che la recensione del nuovissimo escape plan l'ultima sfida vi sia piaciuta ovviamente vi metto qua sotto nel link descrizione il trailer vi metto anche qui sotto la recensione di escape plan parte 2 che con mia enorme sorpresa vi è piaciuta tantissimo e scrivetemi qua sotto nei commenti quale dei tre capitoli preferiti di più e iscrivetevi al canale l'ho detto mettete un bel mi piace a questo video ancora no aggiornate la campanellina per tutti gli aggiornamenti del caso e ciao 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 Grazie a tutti.